Il comune di Padula conquista il secondo posto nella classifica dei progetti per la valorizzazione dei beni culturali campani e riceve dalla regione 2 milioni e mezzo di fondi europei. Particolarmente soddisfatto il consigliere di maggioranza ed ex sindaco Giovanni Alliegro, che ha seguito la pratica fin dall'inizio. La nostra idea progettuale, dice, non solo è riuscita a spuntarla sulle altre 120 presentate e ad entrare nella lista delle uniche 13 finanziate, ma ci consentirà di dare una svolta nella gestione della Certosa di San Lorenzo. Il decreto di finanziamento è stato sottoscritto la scorsa settimana in regione dalle parti interessate e già nei prossimi giorni il comune, unico beneficiario dei fondi d'intesa con la soprintendenza, potrà iniziare a redigere i bandi per l'affidamento dei lavori strutturali e delle attività di promozione previste nel progetto. Tra le opere da realizzare, il completamento degli spazi interni al monumento Certosino, ancora inutilizzati, ma anche il recupero delle tele depositate all'interno della Certosa e di proprietà di altri comuni del territorio, ai quali saranno restituite una volta restaurate. Con i 2 milioni e mezzo di fondi europei, inoltre, il comune di Padula dovrà anche eseguire lavori strutturali sul Battistero Paleocristiano di San Giovanni Infonti e rendere accessibile l'area archeologica Cosilinum. 250 mila euro saranno destinati alla promozione turistica non solo di Padula, ma dell'intero Vallo di Diano. In tal senso si inserisce l'idea di creare all'interno della Certosa una vetrina espositiva del Vallo di Diano, un unico spazio che mostri il meglio del territorio. La Certosa di San Lorenzo, afferma Agliegro, è un bene di tutto il territorio, non solo del nostro comune. Per questa ragione, quando abbiamo lavorato a questo progetto, non ci siamo dimenticati di inserire iniziative per la valorizzazione e promozione di tutto il comprensorio valdianese. Grazie. 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 Grazie.